Giulio a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui insieme a Francesco per raperire led, di nuovo, perché sì, grazie Magic Corner. Prima di tutto vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati a Magic Corner, quindi vi ricordo che se volete il prodotto sigillato o le carte singole che stanno all'interno di questo prodotto o di qualsiasi altro prodotto uscito da questo prodotto in poi, lo trovate sul loro sito. Inoltre se volete liberarvi di carte che stanno qua dentro o di qualsiasi altro set uscite dopo questo o è prima, scrivetemi su Instagram e trovate il link qua sotto in descrizione. L'ho sempre dovuto fare, qui sotto, il link sta lì sotto. In più c'è Twitch, se volete qua sotto in descrizione. Anzi c'è Twitch su YouTube. Il sito Viola, il sito Viola, qui sotto. Detto questo, oggi ci sfideremo per vedere chi sbusta meglio. Io c'ho un culo. Guarda, l'unica cosa buona qua dentro è l'anima dei maghi e c'è un tipo là dietro che ne vuole un playset. Sì. Cimi quanti ne vuoi? Sette. Nove. No, ma ragazzi, ma guardate quanto è bello. Qui dentro usciva i maghi neri, artwork stupendo. Cioè poi la fusione è un po' me, però artwork bello. Vai, spustalo, fa vedere. No, che schifo. Tu ti prendi quel lato? Va bene, non rovinare la scatola che così lo metto nello sfondo. A posto. Li vuoi mescolare? No. L'unica cosa è che non potremo avere il set di tutti i dadi perché, a parte che uno è short print, il problema è che un dado usciva solamente nel prodotto che si vedeva da GapStop. Ah, vero? Sì, c'è il dado del mago nero? No. Aspetta che Konami non si fa così. Grazie. Vai, parti te. Non lì. No. Tutto zozzo. Allora, apriamo col primo. Vediamo che dado abbiamo. Neos. Non è quello promo. Vediamo se quale promo pensi che sia. Non mi ricordo le promo. Bello. Non vale niente, vero? No, non vale nessuna promo niente. Te serviva questo? Va bene. Allora. No, fa me l'apri pure a me. E poi l'apriamo. Ok, intanto. No. Non fideremo mai il set. Almeno quello standard. Guarda, turmine terrestri. Ah, qui c'erano gli immortali terrestri comuni. Sì, e anche final. Gaia, quilla. Merda. Custode infernale. Malicious. Formica di fuoco. Jojen, questa è buona. Sì. Per gotta. Prodigio infernale di fuoco. Incredibile. Maga illusione apprendista. Cosa ne pensi? Questa figa. Vale qualcosa? No. Combinazione ai maghi? Eh, vabbè. Poi accia il sincro. Roba burattino. Forse qualche euro. Lo vuoi te? Basta. Oh, devo fare la reaction insieme a Nicola? Questa è la promo che dovremmo vedere poi. Allora. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mortali terrestri ribelli. Pistolero. Pistolero. Per Edison. Questa che stava a 20 euro prima. No more. Magordine del caos. La E è carina, il mago apprendista d'Ebano. Vabbè. Immondizia. Io ti giuro che non mi ricordo che promo ci sono. Zero. Questo vale però. Liquid è buono. Non vale 3 euro, 5. Sì. Non so. Qualcosa. Diciamo che ci aveva pochi print e poi a parte tutto è finissima. Fuso un botto liquid. Vediamo cosa si trova. Per adesso sto perdendo un botto. Io già con la con la promo ho plassato. Tanto io vado col secondo. Allora. Vabbè. Immortali terrestri. Final. Allora, io ti ricorderai che la telecamera è lì. Almeno. Immortali terrestri. Final. Tutta roba di immortali terrestre. Questo cos'è? Palta comune. Bello questo artwork. Cazzo è? Sentenza del destino. Era una carta anime. Figa dura questa. La vuoi? No. Se mettili fuori l'anima di maghi te la regalo. Un'altra di queste maghi illusione apprendista che a quanto pare qualcosa vale. Uh, questo vuole qualcosa malicioso. No malicioso. È stato reprintato. Golbrunito? Eh, questa era riprinta. No, ce l'aveva già anche un'altra. Niente? Boh. Ma sì. Questa ha 100 euro. Wow, incredibile. Non ci credo neanche io. OMG. Oh, roba burattino arnese. No, cos'è? Burattino arnese. Niente. Guarda, nel pratico hai sbustato meglio te con un pack. Questa è schifezza. Però dai, queste sono belle. Sì, sì, no, no. È andato meglio te che a me. Ma lascia qua sopra. Quelle belle. Quelle sbrillucicose. Quelle sbrillucicose di merda che ho sbustato io. Ma dai, lasciamo sta. Vabbè, in realtà non vale niente. Cosa hai visto? Il dado. No, non è vero, ragazzi. Non è niente di incredibile. Questa è già smintata? Eh, almeno è una... È una comune. Bello, eroe preferito. Altra roba immortale terrestre. Questa era tipo della lore di Final. È lo stesso mostro che sta su Final. Eh? Non ci posso credere. Immortale terrestre. Questo se gioca in goth? Se giocava in goth poi si è scoperto che in realtà non si può giocare. Ok. Allora, niente. Oh, incredibile. Adesso ce l'ho fuori d'attento, eh. Sei pronto? Aspetta. Eh, potrebbe essere anime dei maghi. Non è. Convertitore rottame, incredibile. Convertitore rottame che si gioca nei mazzi spam sincro. Quelli che... Se ci credi, va bene. Sì, non è forte. Credo, però... No. No. Va bene. Mamma mia, che prodotto brutto. Fusione miracolo comune per chi vuole giocare hero. Allora. Mamma mia, che prodotto merda. C'è una carta buona. Allora, abbiamo il dato di H o il cuore in fiamme. Davvero? No, non è di grattacielo quello. Non è hero? Non è H o il cuore in fiamme. Potrebbe essere. Oh, almeno le promo sono diverse. Bella quella. Ma preferivo tipo un altri 15 liquida, eh. Almeno se vende. Forse. Ruggito. Uru. Burattino arnese. Immortali terrestri. Immortali. Noi scherziamo, ma gli immortali terrestri sono bellissimi. Che schifo. Ti sta amico. Ma cosa? Ma che pack di merda. Dai, no. È indecente. Te li faccio aprire tutti i testi. I miei sono così. Passami il coltellino. Giù sta. Non ce l'ho. Lo spacca la scala. Sta davanti a te. Troppo tardi l'ho rotto. Oh, invito alla terra. No. Il play set. Uno con uno. Guarda. Allora, sintonizzare. Ma no. Dai, è vergognoso. Dai, è vergognoso sta roba. Ma Magic Corner manda sempre ai prodotti migliori a me rispetto a Caluca. A sto giro. È che questo è un prodotto che non è... Non si può salvare. Facca che ha. Cioè. Oh. Senti. Vediamo il dado? Attenzione. No, mi sembra uguale. Dado con voi? Ma sono... Cioè, a coppia l'hanno fatti? Ragazzi. Oh, oh, il liquido. No. Eh sì. Ce ne due. Tira fuori l'altro. Dove l'altro? Eh, non so dove l'hai messa il promo. L'hai messa l'ha, le promo? Io porto a casa il doppio liquido. Penso che solo Anima dei Maghi mi può salvare. Sette, là. Fa un po' di bordi. Io non capisco perché lo seguite ancora su YouTube. Cioè, c'è un canale moreno. Cioè, sono tanti... Non sei arrivato a 2.000 iscritti, no? Sì. Questo sarà il video speciale. Non sarà il video speciale. Assolutamente no. Sarà il video del lunedì. Picciccioni. Attenzione. 3, 2, 1. Andiamo avanti veloce. Tutta merda immortale terrestre. E anche un pochino più giù, eh. Eccomi. Questo è sempre della Lorde Final. Mutale. Bello. Questo è il più bello. No. Non ci credo. No. Non ci credo. Il quarto. Vende il playset. Pistolero synchro per Edison. Cioè, è vergognoso, dai. È veramente orrendo questo prodotto. Ma a parte Anima dei Maghi e i Maghi Neri. Niente, non c'è niente. Non c'era nient'altro. Quindi l'hanno fatto per rubare i soldi, praticamente. Sì. È un prodotto proprio brutto. E ne ho persi dei prodotti brutti, eh. A sto punto preferisco il led 9 che c'ha la gosta e gocciolina. Almeno mi ce fa credere. Ma almeno differenti daccele. Maghi lo siamo apprendi sta e... Oh, questa è carina però. Cioè, non vale niente, eh. Oh, non sei riuscito ancora a fare tutta la scritta fine al comune, eh. Incredibile. Cibiote mazzo se se ne apre uno per terra, eh. Lui ride. È già successo. No, ragazzi, voi non lo vedete. Ma c'è un tipo là dietro che sta cercando delle carte. L'osco figuro che cerca delle carte listate. A proposito, trovate il link Card Market qui sotto in descrizione. Giusto? Sì, però non comprate subito perché non abbiamo più dato base. Esatto. O se comprate, sappiate che dovete aspettare una settimana almeno. No, no, domani già... Uh, bello questo. Sì, ma non è quello proprio. Cazzo, voglio quello della maga nera. Ho capito, però è bello quello intanto. Ho paura maledetta. Così tolto proprio l'effetto sorpresa. Guarda un po', guarda un po' che ti tiro fuori. Dai, cosa metti lì fuori? L. Te la conosci la regola della L? Sì, io so l'eccezione di confermare la regola. Uh, lui non va a qualcosina. Un euro. Oh! Anche Dragostapelia. Oddio. CP. Epico. Incredibile. 16 euro di carta. Mamma mia. Ma non la mettere lì. Subito. Ma sì. Guarda, Dragostapelia a fine... Sì, fusione velena affamata. Dai. Eh, te c'è ora un po' per recuperare. Sì, io a meno che non sbusto un'altra di queste non posso recuperare. Adesso due in monoconfezione. Jojen. Stavo strozzando. Malicious. Questo è... Mago del caos. Non vale niente. No, però è bello. Molto bello, ma non vale niente. Il quarto, il quinto. Dai, dai. Questo, penso, è l'unica confezione che stai ripagata. Allora, ultimo, ultimo pack. No, è vero. Abbiamo già finito? Ma hai iniziato a sbustare? No, ecco. Ce ne abbiamo altri due. Ma hai iniziato a sbustare prima te, no? Sì. E allora perché io ce ne ho solo... Cioè, io ho finiti. È una testa. Ah, ok. Perché te ne ho... Ah, era uno dei tuoi. Quello del Geranima. Tu probabilmente l'hai presa... Vabbè. Vediamo la promo di questo. Oh, ma è quella? Aspetta. Ah, no. Ce l'abbiamo già. L'ambiente ringrazierà. Vediamo la promo. È ancora un liquid. No, sunrise, però. Poteva essere liquido. Però bello. Artwork molto belli. Dai, almeno beccassimo il quarto che manca. Oh, oh. Cos'è? Ah, è la fusione. Sì, ma quella è buona, eh. Voi non vedete. Fagli vedere anche a loro. No, no. Dopo, dopo. Allora. Era tipo sette carte, no? Sì. Tre. Sei. Questo trick è sbagliato. No, adesso questo è comune. Esatto. E quella sotto, in teoria, quella sotto, in teoria, è la ultra. Esatto, vedi? Sintonizzare. L'erosincro. L'ultimo. Niente. Oh, ma almeno c'è qualcosa tra i common. Niente. Gostapelia. Grattacielo. No, niente. Dai, apri il secondo. Immondizia. Secondo Pax. Con mezzo sorella Pax. Non ti dico contento, hai sbustato una carta forte, eh. Wow, in una confezione che abbiamo pagato quanto? Niente. Vabbè, però intanto è tutto di guadagnato. Sì, sì, dipende. Servi da voi? Sì, dipende il prezzo. Allora, vediamo. Senti, andiamo avanti veloci. Tanto questo è final. Merda. Ancora merda. Pre la pratica. Va bene. Il problema è che non abbiamo un set con lo stesso colore. Vediamo l'attacco. È di nuovo il sincro, mi sa. No. Il sincro che è un mosso. Il sincro, il tuner, quello. Vabbè, dai. Dai. Che schifo. Quale vuoi? Che schifo. Prendi ne uno. Quello che non sappiamo la promo. Quello che... Esatto, questo. Vai. Apri. Speriamo che l'anno prossimo questi set siano migliori. Per fortuna, dopo questo video brutto dove non troveremo... Oh, no, dato. Guardate che ci manca. Dato sincro. Rottame sincro. Ah, a me mi sembrava... Bruchido. Ma come bruchi... Ma, perfetto, lo vede la telecamera. Come puoi essere bruchiido? Boh, mi ricordava bruchiido. È rottame sincro, sì. Bam. Ancora sta qualcosa, no? No. No? Però buona. Fargate su dei super poli. Di oscurità. Quello non te la darò. Perché no? Perché io la voglio. Fargate su dei super poli. Vabbè, io la lascio nelle carte che voglio. Poi vedremo. Amicco, amicco. Oh, guarda. Guarda. Se tiri fuori altre anime dei maghi, me ne vado. No, è incredibile. È incredibile. Ce l'hanno... Cioè. Ma poi è forte. È stupendolo. Chi cazzo lo gioca? Non l'ho mai visto giocare. Guarda un po'. Come che tiro fuori anime dei maghi. Sì, ma non hai fatto vedere magari e hanno... Pensano che te incimi le carte. Sì, vabbè, guarda. Oh, negro volto. Oh, oh. Visto la magia? Perda pratica? Perda pratica? Sì. Mamma mia. Guarda, l'HeroLive è la roba più carina perché si giocano in Edison. Where is il... Questo? Il coltellino. Sembra un bambino che non ha mai tenuto in mano un coltello per uccidere una persona. Ma guarda che coltello per uccidere una persona, signori di YouTube. Non abbiamo beccato il dado promo. Che inculata. Attenzione. Non è la fusione, è la magia, secondo me. Allora. Dado merda. Grazie conami per la plastica. Oh, ho visto dei... Oh, servitore SolServant. Questa che serve? Questa? SolServant. Perché la roba a Mago Nero costa? È colpa della community. Basta comprare roba a Mago Nero. Ecco. Oh! Scatto il microfono. È la community. È la community che mi ha mandato un colpo quando ho detto basta comprare roba a Mago Nero. Stanto spattico. Sì, sì, sì. Oh, ce la facciamo? Mamma mia, adesso ho preso proprio de merda. Ed è qui che sarà... Anime dei Maghi. Anime dei Maghi? Oh! Quindi ce ne avevamo una testa a fondo. Oh, guarda il Pac Mago Nero. Guarda il Pac Mago Nero. Mamma mia, il Pac Mago Nero. Cipri, ce ne abbiamo due. C'è il tre perci, hai te? Sì, attualmente sì. Ma non la mettere lì. Questo è tipo quello che vale. Ok. Perché secondo me non sta niente neanche questa. Non lo so. In caso... Allora, guarda. Io mi sento già in vantaggio. Questo non importa cosa ci sia dentro. No, non sei in vantaggio. Io ho beccato la fusione... Io ho il Soul Servant e due solidi. Ma io ho il target del super fuori. Due liquidi. Ma poi vediamo, poi vediamo. Stato, non ce l'ho il target del super fuori. Ne vedrai. Merda. Merda. Cos'è sta roba? Merda. Tutta roba... Cioè, questo è l'unico che hanno fatto così? Tutti gli altri comuni? Penso che esistano anche gli altri. Questo ciclone selvaggio e re malvagio. Carino. Beh, se vuole. Dai, è andata bene. Non è andata male, eh? Poteva andare molto peggio. Sì, potremmo neanche trovarne in mani di mani. Adesso possiamo aprire quell'altro prodotto. Qual è l'altro prodotto? Una senza slip, così. 16, 15, 14. Non è rovinata. Ora è bella, perfetta. Sì, adesso c'è una riga dietro dovuta dagli occhiali. Comunque è proprio una bella carta. Sì, sì. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video. Cioè, vuoi venire qua a fare un saluto? Anche online è agorafomico. Quindi ha paura dell'agora romana? Degli spazi aperti. Poverino. Vi ringrazio per aver seguito questo video che non ha senso. Non serviva a nessuno. Però sapete che ha anime dei maghi adesso. Sì. La sua è sul market. Un bacione a tutti. E noi ci rivediamo. Spero che le feste le abbiate passate bene, visto che questo video lo vedrete dopo le feste. Forse, che ne sai. Ti spiegate come me c'era. Allora, buone feste, se lo vedete prima delle feste. E noi ci rivediamo mercoledì. Tu taglialo. Taglialo in base a come ti serve. Sì. Buone vacanze o buon rientro. Noi ci rivediamo mercoledì con un nuovo episodio del podcast. Ci sono? Ci c'è. Giuro. Progresso, vabbè. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Grazie a tutti.